Musica Propiettione? Sì, pensa che è bene qui? Tome? Come? L'む環境 unlocked 18 18 Bon boaba ize 18 E seiorial? Nooo hoe le RPG? Bianca, il primo è tu Bianca? Non è una anche un ragazzo, le cuo creiamo Attica Senagat, mi deve vedere qui alle trgenti Grazie a tutti.